Buongiorno a tutti, allora innanzitutto vi mando i saluti di Don Gigi Inter che è rimasto molto sorpreso dell'accoglienza ricevuta, dei complimenti che ha ricevuto, non se li aspettava quindi ha detto che tornerà sicuramente, mi ha detto che sta già preparando la nuova letterina anche se settimana prossima appunto ci affermo il campionato quindi non so che cosa vorrà fare. Ma veniamo a noi. Oggi si disputeranno le prime due partite della ventesima giornata del campionato di serie A, poi domani ci saranno le altre sette, anzi otto, però per oggi io mi occuperò solo delle due di stasera e di quella delle 12.30 di domani. Quindi partiamo subito con Chievo Udinese. Partita che si svolgerà alle 18 su Albente Godi su cui francamente non so su cosa puntare perché allora se uno dovesse ragionare semplicemente con la testa e con i risultati il 2 o al massimo l'IS2 dovrebbe essere la schedina da puntare ecco per intenderci perché francamente l'Udinese arriva da cinque vittorie consecutive e il Chievo è riuscito a perdere a Benevento. Però proprio per la legge dei grandi numeri che, attenzione, mica sempre continuano e proseguono, non me ne vogliano i tifosi dell'Udinese, non vorrei che oggi il Chievo ha il colpo di coda. Però ripeto, per me, ma la butto lì, è X2. Però è buttata lì, ragionata lì sul fatto appunto del rendimento delle due squadre. Fiorentina-Inter. Ecco, io odio fare i pronostici sull'Inter, quindi vi butto lì un IS2 proprio buttato lì proprio perché la Fiorentina, l'ho vista col Milan, non è che mi è sembrata così eccezionale, come direbbe Abba Tantuono. Noi purtroppo ormai nelle ultime quattro partite di eccezionale non ci abbiamo proprio più nulla, quindi o si svegliano oppure è uno 0-0 squallidissimo e quindi per questo l'IS2 mi garantisce un minimo, tra virgolette, di sicurezza. minima, perché ripeto, è una partita da tripla. Anche gli stessi bookmaker, vedendo le quote, non è che hanno scelto una favorita. Diciamo che l'unico risultato meno probabile per loro, visto che è dato 3-35, è il pareggio. L'1 è dato a 2-75, il 2 è dato a 2-55, quindi siamo lì. Partita di domani delle 12.30. Anche questa esula da qualsiasi pronostico, perché il Torino ha cambiato l'allenatore da due giorni, un giorno, giovedì hanno deciso di lasciare a spasso Mijalovic e prendere Mazzarri. Mazzarri è un allenatore che ha bisogno del suo tempo per inculcare le sue idee, quindi non lo so il Torino come si presenterà domenica, anzi sabato, visto che comunque giocano di sabato. In più si gioca alle 12.30, quindi è la prima partita della giornata, del sabato, e quindi il tempo è proprio il minimo indispensabile. Non hanno Belotti e stanno facendo una fatica immensa a segnare. Incontrano un Bologna che comunque non è che navighi in chissà quale ottime acque, visto che comunque l'ultima partita se non erro l'ha persa proprio con l'Udinese, dopo essere passata tra l'altro in vantaggio. Quindi un X e poi scegliete voi se mettere l'1 o il 2, ci sta bene. Bene, le tre partite che volevo raccontarvi ve le ho messe. Vi ho mandato appunto i saluti di Don Gigi, Inter. E niente, ci sentiamo poi domani per commentare Fiorentina, Inter e Chievudinese e per presentare le altre sette vedrò di velocizzare un attimino perché sono parecchie le cose da raccontare domani. Bene, vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale, vedo che piano piano le visualizzazioni aumentano, gli iscritti un po' meno, siamo solo a 34 ma capisco che devo ancora crescere. Per ora ringrazio i 34 iscritti che mi ascoltano e hanno voglia di ascoltarmi. Ciao!